Avvocato Cortesi, assistiamo sempre di più ad aziende bergamasche che vendono ad altre aziende o a fondi esteri. Che cosa succede e perché succede questo? Allora, sì, è vero che assistiamo, che la tendenza è quella, diciamo, di vendere invece che di acquistare. Diciamo che su dieci operazioni che seguiamo sei sono di vendita, quattro sono di acquisto. Quindi è in dubbio che la tendenza è quella di vendere piuttosto che di comprare, almeno per quello che vediamo noi nell'ambito della media impresa nel territorio bergamasco bresciano. Succede questo perché la media impresa è di fronte alle grandi sfide globali, evidentemente la dimensione non gli consente di competere in maniera efficiente nel mercato globale e quindi evidentemente o diventa preda o fa il cacciatore. Diciamo che una serie di fattori, per una serie di fattori, sono più le volte in cui l'ambito impresa è costretta a vendere. Perché? Perché questi fattori, diciamo, sono sostanzialmente tre, diciamo tre, quattro. Prima di tutto c'è un tema di passaggio generazionale, cioè bisogna che evidentemente le generazioni successive a quelle dell'imprenditore che ha fondato la società siano nelle condizioni di poter assumere il comando dell'impresa e di poterlo assumere in maniera, come dire, efficace. E quindi questo è un tema che evidentemente va verificato caso per caso, però è un tema che sussiste. C'è il tema poi della gestione della società, cioè se io compro una società all'estero, poi o anche in Italia, poi devo gestirla, quindi devo avere le risorse umane che mi consentono la gestione dell'impresa che non è sotto casa mia. Compro una società in Brasile, in Cina, in America, poi ci deve essere qualcuno che va a gestirla e il che non è né facile né scontato, perché anche qui ho al mio interno un passaggio generazionale efficace, quindi al mio interno ho per esempio familiari che sono disposti e che sono pronti a andare a gestire l'impresa che ho acquistato, oppure, e qui ci ricolleghiamo al terzo motivo, ho bisogno di manager che lo possono fare e lo possono fare sempre in maniera di, come dire, totalmente autonoma in modo tale che gli imprenditori si fidi, in modo tale che gli imprenditori si fidi di questa gestione managerializzata, che è un po' il terzo tema, cioè perché si vende, perché l'imprenditore da solo non ce la fa. È chiaro che l'imprenditore che riesce a costruire una squadra di manager all'interno della propria società, manager di cui si fida e manager competenti, come dire, rafforza la struttura della società stessa e aiuta in un processo eventualmente di acquisizione piuttosto che di vendita, nel senso che se io ho una squadra di manager di cui mi fido, probabilmente affronto con più, come dire, determinazione le acquisizioni di realtà che potrebbero aiutarmi a crescere, invece se non ho questo tipo di squadra è chiaro che sono fragile, specialmente poi se è un tema di passaggio generazionale, per cui, come dire, la mancanza di manager e se è un tema di passaggio generazionale queste due cose si cumulano e mi rendono fatalmente preda in un più cacciatore. C'è anche un discorso di finanza. E poi c'è un discorso di finanza, cioè la finanza alla crescita, per quello che vediamo noi, in Italia è ancora fatta purtroppo in maniera tradizionale, cioè la banca generalista ti dà il finanziamento per la crescita, ma te lo dà solo contro garanzie, magari anche sui beni personali, oltre che su quelli aziendali. Quindi io ho visto raramente nelle mie operazioni o nelle operazioni che noi seguiamo, finanziamenti concessi solo per il business plan, quindi l'imprenditore porta il business plan, porta un fantastico business plan e la banca si convince erogare il credito per l'acquisizione sulla base di un semplice business plan. Quello che si vede è invece la tradizionale concessione di finanza a seguito di garanzie reali sui beni della impresa e oppure anche personali. È chiaro che questo ulteriore elemento, come dire, appesantisce l'imprenditore che magari è originariamente convinto di aprirsi e di acquisire, di essere soggetto acquisitore, perché ripeto, il combinato disposto, come vi dicono gli avvocati bravi, del passaggio generazionale, della mancanza di manager e della difficoltà di riperimento di una finanza che non sia aggravata da garanzie, l'insieme di questi tre elementi gioca evidentemente a sfavore della decisione di acquisire e fatalmente invece rende l'impresa magari buona, una buona preda e, come dire, rende l'imprenditore, come dire, più disponibile.